E anche questa sera abbiamo i professionisti del PMG, in realtà ne abbiamo due, sono il professore Enrico Filippini, endocrinologo e la dottoressa Elena Pelizzari, farmacista. Buonasera, buonasera Andrea, buonasera a tutti, in TeleTutto racconta. Allora, dottoressa Elena, ci fa un'introduzione molto veloce alla serata? Sì, innanzitutto prima di cominciare questa puntata voglio ricordare anche gli altri due professionisti del PMG che sono il dottor Giovanni Simonini, primario ortopedico e esperto in tecniche chirurgiche mini-invasive ed è primario della sesta unità di ortopedia dell'Istituto Clinico Città di Brescia e adesso la regia ci ha appena mandato invece le immagini del dottor Giovanni Bresciani che è fisioterapista e osteopata ed è titolare del Centro di Riabilitazione e Fisioterapia Fisiotec di San Zeno Naviglio. Come abbiamo anticipato la scorsa settimana nella parte introduttiva il percorso che ci porterà fino al 31 maggio di quest'anno prevede prevenzione nei vari ambiti professionali nostri e infatti proprio il dottor Giovanni Simonini la scorsa settimana ha cominciato parlando di prevenzione della gonartrosi e questa sera invece il nostro dottore Enrico Filippini parlerà di novità, le novità fanno parte sempre del nostro percorso di quest'anno e poi tutti sempre i casi clinici e professionisti che saranno poi in sinergia con noi. Allora professor Filippini e innanzitutto ricordo che c'è un sito internet studiomedicofilippini.it per ritrovare i contatti del nostro professionista. Allora professor Filippini oggi l'argomento è importante, in realtà abbraccia uomini donne però forse più uomini in un certo senso. Parliamo di un nuovissimo trattamento per chi è senza o con pochi capelli e mi fa piacere sia proprio un endocrinologo a parlarci di tutto questo giusto? Sì infatti gli uomini colpiti di più ma le donne ecco diciamo che se per gli uomini è un problema per le donne diventa anche una tragedia molte volte quindi e la caduta dei capelli spesso è anche un problema di tipo endocrinologico di tipo ormonale non peraltro tantissime malattie endocrine quindi del nostro sistema endocrino interno si manifestano con dei problemi di parità di capelli o comunque di alterazione della crescita e quindi è molto importante comunque prendere in considerazione anche una visita da un endocrinologo esperto in tricologia nel qual caso ci sia un problema ai capelli di qualsiasi tipo è un problema di qualsiasi tipo. Quindi insomma si parla per esempio di problemi alla tiroide oppure policistosi ovarica assolutamente sì ma certo la menopausa pur non essendo una malattia però una condizione fisiologica che tra le altre altri disturbi da anche spesso volentieri una crisi a livello del cuoio capelluto quindi tante donne dopo i 40 45 anni cominciano a manifestare proprio un ritardo della crescita oppure una caduta precoce o altri disturbi dei capelli da prendere assolutamente velocemente. Qual è la lopecia più frequente? La lopecia più frequente è la lopecia androgenetica che come dicevamo prima è più frequente negli uomini abbiamo circa un 80% più o meno grave ovviamente negli uomini e il 50% nelle donne. Androgenetica appunto perché c'è una componente sia genetica da parte della mamma della famiglia della mamma soprattutto e una componente endocrina ormonale quindi ecco che rientriamo nel discorso delle patologie di tipo endocrino. Quindi nel vostro poliambulatorio voi endocrinologi siete esperti in tricologia vi occupate quindi anche di curare queste forme? Assolutamente sì essendo esperti in endocrinologia specialisti e quindi anche tricologi ecco che conosciamo perfettamente la componente biologica che sottende la crescita del capello e quindi possiamo proporre anche le terapie più innovative. ce ne sono tante. La cosa importante è non farli cadere i capelli cioè nel momento in cui compare qualche problema rivolgersi subito allo specialista, all'endocrinologo oppure comunque a un medico che possa fare diagnosi velocemente perché se cadono è già più difficile riuscire a recuperare anche se ci sono delle tecniche ultimamente molto interessanti, molto innovative. Tra poco le vediamo una volta si diceva che l'unica cosa che ferma la caduta del capello è il pavimento. Oggi fortunatamente non è così. Quindi cerchiamo di capire. L'ha detto Costanzo mi sembra. Un collega, un tuo collega l'ha detto. Allora vediamo di capire e parlare della parte estetica. Quando appunto i capelli non possono più ricrescere dobbiamo riempire poco o anche tanto quello che manca, lo spazio che manca. Sì, dobbiamo riempire poco o anche tanto la parte, la terribile parte che manca e abbiamo questa tecnica nuova che è una tecnica con delle fibre artificiali, una tecnica che richiede semplicemente una terapia medica e non un intervento chirurgico vero e proprio. È una tecnica anche molto semplice, completamente indolore e soprattutto anche per il portafoglio perché non è una terapia particolarmente costosa. Parliamo anche di impianti di capelli artificiali giapponesi? Ecco sì, parliamo proprio di questi che sono un impianto di capelli. Qui vediamo come viene fatto l'impianto con l'utilizzo di questo implanter che è uno strumento che prende l'asola del capello sintetico, che è un capello comunque fatto con lo stesso materiale che viene utilizzato per le arterie artificiali, frutto di tecnologia giapponese, quindi sono laboratori di Tokyo che hanno elaborato nel corso di 20-30 anni questo capello e l'ultimissimo, lo Z-Type ha raggiunto dei livelli di comfort e di perfezione assoluti. Sono capelli che non vengono assolutamente a essere diversi da quelli che sono dei capelli normalissimi. Lontanissimo il concetto di cappello della bambola e la cosa molto interessante è che il capello viene messo attraverso questo impianto in mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, dipende dal numero di capelli che si vogliono impiantare e il paziente appena messo i capelli se ne va a casa tranquillo, può andare in discoteca. Qui abbiamo un paziente che ha riempito la parte posteriore, la famosa chierica con i capelli, è un ragazzo giovane questo, questo è un signore che ha riempito la parte superiore della fronte, prima con un paio di centinaia di capelli, adesso con altri 200 capelli, con 400 capelli ha riempito la parte superiore del capo. Ecco, quanti se ne possono impiantare ogni... Ecco, allora, la cosa fantastica è che i pazienti decidono proprio loro dove metterli, come metterli e i capelli sono perfettamente identici a quelli che loro vogliono avere come colore come lunghezza, se ne possono impiantare dai 200, 300 fino ai 600, ai 800, le sedute possono essere una ma anche due o tre perché basta un leggerissimo anestetico locale, più leggero di un anestetico del dentista e poi dopo il paziente non sentendo niente inserisce i capelli che vuole, guardandosi allo specchio. Non è doloroso immagino? No, l'ultimo paziente si è guardato la Juventus sull'iPad e noi, io e il mio collega eravamo un po' disperati, avremmo voluto vederla anche noi, comunque ecco, tanto per dire il clima che si instaura durante il trattamento. Però so che ci dovrà annunciare anche altre novità. Assolutamente sì, sempre nell'ambito dell'endocrinologia tricologica dei capelli abbiamo delle grossissime novità che man mano illustreremo, oltre che quando ci ospiterai ancora e quando verremo con l'IPMG, anche attraverso i nostri social, attraverso la pagina del poliambulatorio medico, attraverso le newsletter, attraverso Instagram, insomma ci potete trovare dappertutto come poliambulatorio. Benissimo, e allora ricordo studiomedicofilippini.it, anche attraverso i social, abbiamo citato Facebook ma anche Instagram per proseguire con questo discorso. Dottoressa